Si passa la parola, la prima cosa, al segretario comunale, il dottor Giovanni Sapienza, che fa l'appello dei presenti. Prego segretario. Facciamo l'appello dei ragazzi. Si risponde ad alta voce, presente, quando sentite il vostro nome. Francesca Masotti. Presente. Yasmin El Arcaut. C'è? Leonardo Ferrari. Sofia Degli Esposti. Eleonora Borri. Atitaglia Sabu. Alessandro Celi. Gioia Cupertino. Camilla Zanotti. C'è? No. Beatrice Vecciali. Pietro Bignardi. Si. Isabella Fiorini. Si. Linda Grandi. Si. Andrea Tacconi. Si. Federica Pellegrini. Federico Zanni. C'è? No. Carola De Vincentis. C'è? No. Francesco Costanzini. Elena Selmi. Presente. Matilde Verdolini. Presente. Giovanni Bergonzini. Presente. Giorgia Di Sarno. Presente. Stefania Bertinelli. Presente. Asento per avere il vostro sostegno. Presente. Alessandra Iervolino. Presente. Lucrezia Montorsi. Si. Mirko Iuccolano. Si. Giovanni Galli. Elisha Dudu. Si. Alessia Davalli. Si. Tomas Montesion. Si. Sharon Giusti. Michel Costanzini. C'è? C'è? Tommaso Manni. Davide Bellavita. Edoardo Leonelli. Si. Bernardo Grica. Si. Benedetta Fanti. Si. C'è? Assente. Martina Bartolini. Si. Laura Pinghini. Si. Giuseppe Stanizzi. Si. Filippo Iattoni. Si. Matilde Lorenzoni. Si. Non c'è. Antea Cioni. Si. Alessandro Monari. Si. Andrea Corazza. Si. Simone Di Nuzzo. Tu figli. C'è? No. Matteo Ori. Si. Virginia Lori. Si. Assia Ramuna. Si. Aurora Elegibili. Letizia Sovieni. Si. Alessia Bertacchini. Sono. Sara Borghi. Federica Barbieri. Francesco Giacomozzi. Laura Pozzi. Federico Cassani. Elena Montanari. Riccardo Alessandro Lammia. E Aileen Nica. Bene. Bene ragazzi vi farò intanto oltre al benvenuto vi farò un breve discorso per rivolgervi quattro riflessioni. Riflessioni che riguardano l'impegno politico nel senso più ampio. Cioè l'impegno verso quella che è la comunità nella quale viviamo. E la capacità di intercettarne i bisogni e trovare le risposte. Allora prima riflessione. L'apprendimento del valore e dell'importanza delle regole. Le regole nascono con la fondamentale funzione di armonizzare le condotte e gli atteggiamenti degli esseri umani. Di fornire dei punti di riferimento e anche di ridurre le incertezze, le differenze e i conflitti. Quindi partecipare alla vita politica del proprio comune o della propria scuola vuol dire affermare le regole di convivenza della propria comunità ed esserne responsabili. La mia prima riflessione è che voi oggi state contribuendo a costruire le regole della vita democratica con senso di responsabilità. La seconda riflessione riguarda lo sviluppo del senso di appartenenza. Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale. Siamo nati in un gruppo, cioè in una famiglia. In classe impariamo in gruppo. Giochiamo in gruppo. Da quando l'uomo si trova sulla terra egli ha sempre vissuto in gruppo. Con il gruppo noi possiamo soddisfare dei bisogni, sia essi biologici o psicologici, che non possiamo soddisfare se siamo da soli. Quindi il gruppo ha l'obiettivo di migliorare la sopravvivenza dell'individuo. Gli evoluzionisti ci dicono che la selezione naturale favorisce non chi vive in isolamento, ma chi vive in gruppo. Quindi la mia seconda riflessione è che voi oggi date prova di essere un gruppo di ragazzi che si impegna a trovare soluzioni ai problemi della propria comunità. La terza è il confronto delle idee. È necessario ricordare che la diversità di idee è il sale della democrazia. Altrimenti avremo a che fare con il pensiero unico, proprio dei sistemi totalitari che nel secolo scorso hanno dominato gran parte del mondo, in particolare i regimi fascisti e i regimi comunisti. Non c'è democrazia se viene meno il confronto delle idee e quindi quel sano processo dialettico che ha o dovrebbe avere il compito di portare le persone ad incontrarsi, attraverso un sano scambio di modi di vedere e di opinioni, scambio che è importante e necessario per costruire e vivere quotidianamente la democrazia. La mia terza riflessione quindi è che voi oggi date prova di quanto possa essere fecondo il confronto delle idee e delle proposte. La quarta ed ultima è acquisire la cultura della partecipazione. Come veniva evidenziato anche nell'antica Grecia, nessuna comunità può esistere se i suoi componenti non partecipano alla vita collettiva. Rubiani sei in ritardo, eh? La pratica politica, così come la partecipazione, è di fondamentale importanza in quanto dona un senso alla vita degli individui. Fin dall'infanzia è fondamentale educare le persone alla partecipazione mediante il coinvolgimento, senza la pretesa di far loro assumere delle responsabilità troppo pesanti. Alcuni considerano il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi come inopportuno, in quanto solo gli adulti dovrebbero confrontare...